Al teatro Traetta, Sirano sulla Luna, diretto e interpretato da Alessandro Preziosi. Che cosa vedremo stasera? Beh, è un approfondimento del Sirano de Bergeracchi, innanzitutto, che passa attraverso il vero Hercule Savignan-Sirano, vissuto due secoli prima che Rostan, attraverso la sua penna, ci raccontasse le gesta eroiche e poetiche del più grande spadaccino di tutti i tempi, Sirano de Bergeracchi, attraverso questo approfondimento si passa in rassegna non solo la vita del vero Sirano e dei suoi scritti, che sono stati precursori di quella che oggi definiremo letteratura scientifica, ma anche capire come un autore neppure trentenne, attraverso gli spunti offerti dal libro scritto da Sirano, Viaggi negli Stati e altri imperi della Luna, abbia creato da questa ispirazione il più grande eroe romantico e infelicemente legato ad un aspetto non proprio bellissimo, perché lo ricordiamo soprattutto per il grande naso. Quindi attraverso questo percorso si cerca di innestare nel pubblico e anche nel sottoscritto una riflessione, leggere un libro è come fare un autoritratto, cioè riuscire ad accettare che nella vita i classici rappresentano qualcosa che ci può in qualche modo condizionare, che può migliorare la qualità anche della percezione che abbiamo di noi stessi. E' un monologo, quindi insomma sarà mio impegno cercare di attirare l'attenzione poi in un teatro, in un gioiellino così bello come questo. La cosa più difficile e quella più entusiasmante, dirigere se stessi, dirigere gli altri o recitare? La cosa più difficile è stato arrivare da Conversano a Bitonto. Devo dire la verità, non è una cosa facile. Uno si pensa, sai, recitare, dirigere. No, la cosa più difficile è dirigersi, ma nel senso di riuscire... La cosa più difficile del monologo è mantenere in maniera compatta la concentrazione, la capacità di capire che tipo di pubblico hai davanti. Perché poi in un monologo come questo, che passa attraverso la lettura, l'intrattenimento, i cambi di ritmo, i cambi di voce, ho comunque per le mani una sostanza abbastanza consistente, che è quella del Sirano de Bergerac. Però sicuramente è quella di dirigersi, cioè quella di mantenere sempre una linea che non sia soggetta a mutamenti legati al tipo di teatro, al tipo di pubblico, mantenere la propria strada facendo attenzione che tutte le emozioni che tu hai sempre portato in scena risultino comunque per lo spettatore accessibili e soprattutto fruibili, considerando che l'attore è un filtro del testo, non è lui che deve piangere per far commuovere o ridere per far ridere. Deve essere un sano filtro. Grazie a tutti.